Dopo la conferenza stampa di ieri organizzata dalla FLC CGL di Teramo per denunciare in particolare la carenza di insegnanti nelle scuole e nel mese del ritorno in classe, oggi sempre a Teramo si è svolto il sit-in del personale ATA sotto la sede dell'ambito territoriale provinciale di Teramo, al grido di basta tagli e riduzione del personale scolastico. Purtroppo come ogni anno ci ritroviamo all'inizio dell'anno scolastico con le scuole che non hanno personale a sufficienza per la copertura di tutte le esigenze delle scuole. Noi siamo qui a manifestare perché attualmente ci risultano meno 300 posti per il personale ATA, tra assistente amministrativo, personale tecnico e collaboratori scolastici. Quindi la situazione è davvero critica, sia come diceva lei per quanto riguarda chi sta all'interno della scuola, che inizierà garantendo una sicurezza adeguata e una funzionalità, un'organizzazione adeguata all'inizio della scuola, ma anche per chi invece è in attesa di un'eventuale chiamata per un'immissione in ruolo o anche una supplenza che purtroppo allo stato attuale non arriverà. Dunque una scuola senza 300 collaboratori, senza risorse e con una prospettiva di sacrifici su sacrifici per il poco personale a disposizione, in vista della prima campanella che in Abruzzo suonerà il prossimo 12 settembre. Sono queste le accuse dei sindacati che da mesi denunciano le anomalie della gestione calata dall'alto sul personale scolastico e per questo ora a ridosso della ripresa delle lezioni hanno scelto di scendere in piazza. Facciamo parte di un istituto comprensivo, Isola Colledara, che è grande, ha molti plessi, tra i quali dei plessi grandi. Noi siamo 18 collaboratori e 13 plessi, per cui non ci sono neanche due collaboratori per ogni plesso. Nei plessi grandi andrebbero un minimo di 3-4 persone e purtroppo non ci sono. Vorremmo altri colleghi con noi, purtroppo pare che non ci li diano. L'anno si presenterà, secondo me, molto ma molto difficile, per cui sarà tragico perché è impossibile. Io per esempio l'anno scorso sono stata all'infanzia di Isola, che è un plesso molto grande, con 3 precari. Quindi io quest'anno mi ritroverei da sola. Quindi non sappiamo, le problematiche sono grandi.